e belli a tutti ragazzi oggi ragazzi facciamo l'ottava parte che gioco a royal match poi ragazzi scusate se ho dovuto scusate se ragazzi ho dovuto disinstallare alcuni giochi perché sono ragazzi io lo spazio nel telefono non ce l'avevo perché poi ragazzi non già non già avevo lo spazio poi ragazzi per per fare i video perché se poi ragazzi io io non tengo lo spazio dentro il telefono per fare video io poi i video come li faccio ok ragazzi comunque c'è pure mia sorella angelica saluta angelica angelica fai una cosa allora angelica fai una cosa ti voglio prendere adesso il telefono di mamma perché sennò io non so come devo fare con te comunque ragazzi adesso ci andiamo a fare questo livello 51 penso che ragazzi penso che ragazzi è facile perché sennò ragazzi io qua non ci posso stare più di una vita qua sennò sennò ragazzi qua che devo fare chiudi la porta chiudi la porta vai scusate raga che chiudi un attimo sta porta ok occhio sulla porta va bene va bene andiamo qua così più o meno ragazzi faccio questo video è tutto a porto dai ok così ragazzi poi questo video ve lo pubblico sul canale è tutto a posto dai va bene andiamo 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 raga c'è il primo livello è stato completato va bene royal match già avete scoperto come si chiama il gioco che si chiama royal match ok livello 51 ben fatto abbiamo completato andiamo così dai prima stella guadagnata e ragazzi adesso ciò 123 monete che rincompensa 30 minuti vabbè incarichi vediamo che in carichi tengo pianta albero facciamo tre stelle quindi ragazzi devo fare perché ragazzi pianta albero raga perché pianta albero sapete cosa devo fare devo fare altri due livelli raga devo fare altri due livelli si raga devo fare altri due livelli va bene vabbè andiamo così che così ragazzi più o meno così ragazzi qua più o meno faccio qualcosa oggi vieni 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 angelica vieni vieni angelica vieni vieni angelica scusate scusate ragazzi ma ho dovuto chiamare mia sorella ok così ragazzi vi pubblico pure questo video su youtube così ragazzi ve lo potete guardare lo so lo so ragazzi che oggi è domenica però ragazzi io il video lo voglio fare ok ok raga avevo altre 9 mosse però io ragazzi sempre sono riuscito a completare livello quindi ragazzi livello 52 ben fatto sicuramente sicuramente ragazzi questo sicuramente ragazzi che devo abbassarti il volume di gioco perché ok angelica tieniti il volume di gioco abbassato non lo alzare perché se no se no mi dai festiglio così comunque ragazzi livello 52 completato quindi ragazzi andiamo con il livello 53 così più o meno ragazzi mi faccio un po di questi livelli oggi così più o meno ragazzi mi diverto oggi a fai i video se no non so ragazzi cosa dovrei fare non lo so non lo so che poi ragazzi che cosa devo fare quindi meglio che mi sono messo a fare il video che così più o meno mi diverto parlo con voi così ragazzi faccio il video ve lo pubblico poi quando avete tempo ve lo guardate ben fatto così no non ce la farò completare questo livello oppure sì oppure no non lo so vediamo cosa riesco a fare vediamo 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 sono curioso vediamo cosa riesco a fare no non ce la farò completarlo però ragazzi io ci posso provare pure a completarlo tanto ragazzi mica difficile non è difficile niente per me basta che soltanto mi concentro no non ce la faccio completarlo eh va bene che casino questo no raga mosse terminate no non riesco a completarlo perché se ragazzi avevo 900 monete potevo farmi altre più cinque mosse vabbè ragazzi io il livello lo rifaccio un'altra volta perché tanto ragazzi tempo da perdere non ne ho non proprio così ragazzi però però ragazzi io il tempo ce l'ho e ce l'ho pure abbastanza quindi ragazzi posso fare il video così ragazzi ve lo pubblico pure così poi ve lo guardate e va bene così vediamo cosa riesco a fare tanto capito già tanto ragazzi già ho capito che non riuscirò a fare niente no non riesco a completarlo no vediamo cosa riesco a fare tanto già ho capito che forse riesco a completarlo oppure no non lo so raga è stato semplicissimo proprio quasi semplice però ragazzi l'ho completato pure se ragazzi avevo finito quasi le mosse l'ho completato meno male perché perché ragazzi c'è mia sorella che mi dà sempre fortuna comunque ragazzi il livello 53 ben fatto che significa che l'abbiamo completato giusto che l'ho completato e raga o tre stelle angeli che fatto lo sternutino ok pianta albero così ragazzi pianto questo albero vediamo che albero gioco guarda che albero ok ok angelica vai in bagno a prenderti qualche fagioletto vai in bagno a prenderti qualche fagioletto però tu la porta la devi chiudere quando esci e entri perché sennò così non va bene ok raga ok raga pianta albero l'abbiamo piantato disponi cuccia quattro livelli devo fare quindi per l'esattezza livello 55 56 57 57 58 fino al livello 58 wow fino al livello 58 angelica chiudi proprio tutta la porta ok brava vediamo se riesco a completare questo livello tanto ragazzi non già ho capito che forse si riesco eh basta che ragazzi mi date il tempo poi 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 ragazzi guardate come come riesco a fare tutto vediamo 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 si raga sono un po indeciso però ragazzi ci devo riuscire si angelica fai questo gioco su roblox farlo che colpi meno scusate raga perché ragazzi perché ragazzi mi è venuto un attimo il raffreddore però ragazzi mi passa eh non è che devo non è che devo dirlo sempre in ogni video che mi viene il raffreddore ragazzi quando mi passa mi passa non mi posso fare problemi vediamo eh che cosa si riesce a fare vediamo che cosa si riesce a fare raga per un pelo dai raga per un pelo mancava che ce la facevo quasi però ragazzi per un pelo mancava vabbè ragazzi io il livello lo rifaccio tanto ragazzi tanto ragazzi mica questa è una sfida no quindi ragazzi posso fare il livello fino a quando posso eh fino a quando voglio volevo dire penso eh vabbè io adesso non mi non mi dilungo a parlare e cerco di completare più o meno questo ragazzi il livello sennò ragazzi qua non faccio proprio niente oggi sennò come lo intitolo questo video se non faccio niente vediamo dai no non riesco a completarlo no ragazzi ragazzi posso pure provare perché se no ce la facevo a completarlo però ragazzi non è facile così eh e raga e ce l'ho fatta dai ce l'ho fatta meno male perché ragazzi mi mancava perché ragazzi mi mancava una mossa per 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 fallire il livello però ragazzi ragazzi l'ho completato ok livello 54 ben fatto quindi ragazzi se dovevo se ragazzi devo costruire la casetta ora aspettate ragazzi costruisci casetta tre stelle però ragazzi io voglio fare disponi cuccia con quattro stelle quindi ragazzi se ho completato il livello 54 ora devo fare il 55 quindi 56 57 58 tre livelli penso raga si tre livelli dai raga io non mi posso sbagliare così pure se ragazzi mi sbaglio tanto ragazzi mica ragazzi tanto ragazzi ce la faccio fare tutto qua ragazzi ho visto scritto livello difficile e io ragazzi qua mi inizio a preoccupare e dai vediamo vediamo che cos'è questo il livello difficile che tanto penso che riesco pure a completarlo troverò un modo troverò un modo dai va bene va bene va bene va bene si angela fammi fare il mio gioco dai ok praticamente questo è un livello che non so se riesco a farlo qua ragazzi me ne pentirò di fare il livello me ne pentisco sicuramente ma dai se no ragazzi fatemi fare una cosa che io ragazzi adesso stoppo il video e cerco di farmi più o meno questo livello perché se no ragazzi qua come lo completo quindi aspettate un attimo che completo questo livello e poi speriamo che gli altri livelli sono facili perché se poi sono difficili pure gli altri livelli io non so come devo fare aspettate un attimo ok raga dopo tanto tempo ok raga dopo tanto tempo ci sono riuscito mamma mia mamma mia ragazzi non potete capire cosa ho dovuto fare raga l'ho dovuto fare tante volte questo livello fino a quando non sono riuscito a completarlo mamma mia mai più questo livello mai più mamma mia raga ma che livello era poi livello 55 ma c'era scritto il livello difficile quindi ragazzi quel livello la era difficile perché ragazzi non ce la facevo proprio a completarlo quel livello mamma mia aha non so ragazzi cosa dirvi non lo so non lo so ragazzi io qua continuo col video però non so cosa dirvi vabbè qua ragazzi tengo già due stelle quindi ragazzi ragazzi tengo ragazzi già due stelle quindi ragazzi disponi cuccia eh quattro livelli quindi altri due livelli speriamo speriamo ragazzi più o meno che riesco a completare questo livello se no ragazzi non posso starci tanto tempo qua se no ragazzi devo caricare pure il video devo caricare vediamo dopo erano se non vabbè vabbè ok raga non ditemi che pure questo è difficile perché se no ragazzi già che ragazzi non ricevo a completa livello 55 quindi moditemi che questo è più meno facile perché sono ragazzi non mica ci posso stare una vita vediamo qua più o meno cosa riesco a fare tanto già ho capito che non riesco a fare niente non riesco a fare niente qua no no non ci sono riuscita mo se terminate vabbè ragazzi io ragazzi ci riprovo se poi se poi ragazzi non ci riesco a farlo poi ragazzi stacco la stacco la rec metto in pausa il video dopo se se non riesco se non riesco e poi con tanta calma cerco di farmi questo livello perché sono più o meno ragazzi perché sono qualcosa perché sono ragazzi quando io faccio i videogame qualcosa la devo fare non è che non devo fare niente qualcosa la devo fare questo ragazzi poi il problema che se poi ragazzi non faccio niente non è proprio non è proprio un problema però poi ragazzi non lo faccio questo questo è il bello che c'è angelica si ho capito che cadi sempre aspetta un attimo angelica aspetta che che completi il video e poi vedo aspetta che già che già sono che già questi livelli sono difficili quindi aspetta va bene va bene va bene se poi riesci a farlo e le fai sennò io ti posso pure ti posso pure aiutare tu che non vuoi quindi vedi come devi fare va bene va bene va bene va bene angelica aspetta angelica aspetta no questo livello ragazzi è un po' difficile pure questo raga pure questo non io ragazzi non so come non so ragazzi come devo fare aspettate ragazzi che stacco la rec è più o meno ragazzi cerco di completarmi questo livello sennò ragazzi perché non devo fare niente nel video sennò come faccio aspettate un attimo ok ragazzi ci sono riuscito a completarlo ce l'ho fatta completarlo dai il livello 56 ben fatto l'ho completato ho fatto tutto quello che chi deve al gioco l'ho completato ok ragazzi qua tengo 332 monete va bene qua ragazzi tengo tre stelle quindi quindi ragazzi no aspettate un attimo è costruisci casetta tre stelle se no ragazzi aspettate un attimo faccio ragazzi l'ultimo livello disponi quello della cuccia la ragazzi e poi ragazzi quando mi faccio questo ultimo livello cerco di capire cosa devo fare speriamo che più o meno questo è facile perché se no ragazzi non posso starci pure una vita su questo ho capito che ho capito che ragazzi lo sto dicendo tante volte però devo ce la devo fare qua ce la devo fare senza staccare il video ce la devo fare così ragazzi vi monto questo video ve lo guardate è tutto a posto aspettate verga aspetta un attimo angelica angelica ti devo dire una cosa ti devo dire una cosa che non che non devi che non devi parlare nel momento che parlo io perché sennò poi io ho qua già che non mi riesco a concentrare poi i livelli li mettono pure difficili aspetta un attimo che già che mettono i livelli difficili e questo questo è un problema se mettono i livelli difficili perché sono qua qua ci do sta pure una vita aspetta un attimo angelica abbi pazienza se no non so come fare non lo so eh mo se terminate vabbè se no ragazzi sapete che cosa vi dico io ragazzi qua sono qua ragazzi ho completato il livello 56 che era difficile pure quello ma ragazzi qua pure il livello 57 adesso e vabbè non posso starci una vita quindi ragazzi faccio una cosa costruisci casetta con 3 stelle faccio questo raga faccio questo ho costruito la casetta raga disponi cuccia 4 stelle e ragazzi potete aspettare un attimo che mi completo questo livello 57 poi ragazzi vediamo cosa potrò fare aspettate un attimo che mi completo questo livello che adesso ragazzi stacco la registrazione e cerco di completarmi questo livello aspettano aspettate un attimo scusate ragazzi che stacco di più volte la registrazione ma se ragazzi i livelli sono difficili questo perché ragazzi se i livelli sono difficili mica la colpa è mia perché ragazzi è colpa dei livelli che li mettono difficili quindi aspettate un attimo scusate ok ragazzi sono riuscito questo livello 57 ben fatto ci sono riuscito dai più o meno questo livello dai se no ragazzi non sapevo cosa fare ma ragazzi visto che ci sono mi faccio pure il livello 58 speriamo che più o meno questo è facile perché se no ragazzi qua già è difficile più o meno questo dovrebbe essere facile perché se no ragazzi che devo fare io qua comunque scusate se vi ho fatto aspettare un po' perché ragazzi qua dovevo capire come dovevo come dovevo fare fare il livello scusate se vi ho fatto aspettare un po' perché perché ragazzi perché ragazzi alcuni livelli sono facili alcuni livelli sono difficili quindi dovete avere pazienza non ecco non c'è una no raga pure adesso qua adesso mamma mia adesso ragazzi oggi riprovo però però ragazzi io non vi dico niente se ci riesco ci riesco se no ragazzi mi posso già fermare quasi non riesco io già mi potrei fermare quasi se non riesco a completare questo livello già mi posso fermare quasi non riesco a completarlo ok almeno vediamo adesso se riesco a fare qualcosa vediamo ma se no ragazzi mi dispiace lasciare tutto così che poi non completo niente con ma ragazzi vi devo dire una cosa mamma che colpa mia che non riesco a completarlo il livello avete pazienza ok dai vediamo vediamo entro angelica entra angelica abbassa il volume sto ancora registrando sto registrando abbassa il volume non ti guarda tiktok dai no ragazzi mi posso fermare qua ragazzi col video mi posso fermare qua perché perché ragazzi guardate già già che non già che non riesco a farlo quindi questo è un problema questo perché se no se no ragazzi mi guadagnavo queste quattro stelle che così ragazzi qua mi potevo disporre una cuccia qua quindi ragazzi da giuseppe angelica è tutto quindi ragazzi vi mandiamo un salutone un abbraccione da giuseppe angelica quindi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video che sarebbe domani che farò la nona parte che gioco a royal match perché ragazzi ma questa parte che sto registrando è l'altra parte che sto registrando di royal match quindi ragazzi vado a fare questo montaggio vado a fare la intro vado a fare il montaggio questi ragazzi così ragazzi vi pubblico questo video su youtube e poi ve lo potete andare a guardare quindi ragazzi scusate se scusate se ragazzi ho messo scusate se ragazzi ho messo sempre la registrazione in pausa perché ragazzi quando io non riesco a fare che c'è scritto che ci sono dei livelli difficili la ragazzi che mi preoccupo perché ragazzi la quando ci sono perché ragazzi la quando ci sono dei livelli difficili che c'è scritto proprio livelli di livello difficile e la e la ragazzi mi preoccupo quindi ragazzi per questo ho dovuto per questi ragazzi vi ho dovuto un po quindi per questo ragazzi dovuto sempre staccare la registrazione perché sono ragazzi come come riuscivo ad arrivare perché ragazzi io ho completato il livello 57 e ora ragazzi cercavo di completare il livello 58 però non ci sono riuscito scusate scusate ragazzi per questa notifica perché ragazzi mi è arrivato una notifica da tiktok che poi dopo vado a vedere che adesso ragazzi devo andare a fare il montaggio del video quindi ragazzi da giuseppe angelica e ciao ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ragazzi ciao scusa scusate ragazzi per questa per questa notifica di youtube perché perché qua perché perché ragazzi qua perché perché ragazzi le guarda mie perché le guarda mia sorella queste cose quindi mica sono io a guardarle le cose della ginnasta e mia sorella che guarda i video della ginnasta quindi lasciate perdere quindi ragazzi da giuseppe angelica e tutto ciao